E ora Facundo tisse per la gama Innovation Sarzana al microfono. Come ha visto la gara, è stata molto intensa, anche ostica in certi momenti. A te Facundo? No, sappiamo che fosse una partita difficile contro una bella squadra, ma noi abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo lavorato tanto nella prestagione. E poi alla distanza siamo venuti fuori. Sì, sì, anche l'ha fatto benissimo il portiere Francesco Venè, auguri per lui perché è il secondo portiere della 1. Quindi niente, ma abbiamo lavorato, abbiamo vinto. E niente, felice di aspettare una settimana per ancora seguire giocando.